Finalmente sono arrivati i box che aspettavamo da tempo, la collezione Adrenaline Calciatori 2024-25 si arricchisce con le carte Plus, ci sono tantissime carte da andare a scoprire in questi box, in questo video andremo a vederne alcune e soprattutto vi faccio vedere come fare a riconoscere un box che contiene le carte Plus. E' un metodo infallibile al 100%, ci vediamo tra poco sul tavolo per spacchettare insieme. E allora ragazzi eccoci qua sul nostro tavolo verde per andarci a spacchettare un box, vediamo se riusciamo a aprircelo interamente, contenente le carte Plus della raccolta Adrenaline. Prima di partire però con il video ragazzi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video. E allora sono arrivati i box che contengono le carte Plus, sono dei box completamente identici a quelli che abbiamo visto fino ad adesso, però all'interno di ogni pacchetto ci sono due o tre carte Plus della collezione. Le carte sono circa un centinaio da andare a trovare, vedremo la checklist all'interno del box, l'abbiamo già un pochino vista anche su internet, però come fare a riconoscere un box Plus da un box che non contiene le carte Plus? Allora, metodo infallibile al 100%, ragazzi lo aprite prima di acquistarlo e fate come ho fatto io, ho preso un bel pacchettino e l'ho aperto prima di acquistare il box intero all'edicola. Quindi ho iniziato a scorrere le carte e mi sono preoccupato, ho detto mannaggia nemmeno questo è un box Plus finché non ho trovato Anterebic, carta Plus. A questo punto, Mister Vincenzo Italiano, carta diamante Plus di Coney, ragazzi questo è un box Plus, tre carte all'interno e abbiamo risolto il problema. Quindi, comunque, anche se adesso vi darò un'altra indicazione per scoprire se è un box Plus o meno, ma comunque prima di andare ad acquistare un intero box dall'edicolante, ragazzi, aprite un pacchetto per sicurezza, così avrete la certezza. Se uno di questi pack contiene almeno una carta Plus, allora l'intero box è Plus. Cosa dovete fare, ragazzi? Su internet vi diranno che non è così, oppure alcuni vi diranno che è così, in realtà è un metodo che io ho provato e non ho mai fallito. I codici sull'etichetta gialla che viene apposta da Panini vanno dal 91 al 101, sono quelli che contengono le carte Plus. Quindi, se trovate questo codice qua, che è 91 o 101, potete andare ad aprire un pacchetto per vedere se ci sono le carte. I box che erano usciti fino a questo momento avevano come codice 81 e sicuramente non contengono le carte Plus. Altra indicazione è guardare il codice qui sotto. Io però, vi dico la verità, mi rifaccio sempre, 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 sono anni al codice che trovo sull'etichetta gialla, il sigillo di Panini. Quindi, 91, vi aprite un bel pacchetto e controllate che ci siano le carte Plus. Eccole qua, le nostre prime tre carte della raccolta e a questo punto continuiamo ad andarci ad aprire insieme qualche pack. Eccola qui, ragazzi, la checklist. Sono tantissime le carte da andarci a trovare insieme. Tutte le bis, eccole qui, e poi ci sono le carte che continuano la numerazione. Sono le carte Mister, la carta Top Player firma di Di Marco, la carta Fantastica e poi altre carte base. Eccolo qui, c'è scritto. Sono ben 102 le nuove carte da andare a trovare. In più ci sono una Momentum, che è la Momentum di Orsolini, e ben tre carte autografate. Vediamo qui, c'è Samarcic, c'è la carta Plus di Vlaovic e c'è anche la carta di Alessandro Nesta autografata. L'avevamo vista nei video di Panini direttamente su internet. Questa è la checklist delle carte Plus. Vlaovic in versione base intanto, Cop Miners, abbiamo Emil Audero, carta Plus del Como, Luca Gotti, e poi basta queste due carte. Quindi 3 più 2, siamo a 5 su ben 102. Vi dico che un box non basta a completare la raccolta delle carte. Intanto Pongricic, Kussunó, la carta, questa è una Plus, ragazzi, Kabal, la Superstella di Lokman, poi una carta rovescio è Pellegri, e Raffia per il Lecce. Continuiamo. Allora, sotto il codice abbiamo Tayon Buchanan per l'Inter. Come lo dice lui, ragazzi, è Buchanan in canadese, mi sa che lui è canadese, americano-canadese, Gosens, Raimondo, carta Plus, la diamante di Bonny. Altra carta Plus è Sule di Bala, la carta Diabolici, questa è molto bella, eccola qui. E poi finiamo con Christensen, carta della raccolta, in versione base. Andiamo avanti, abbiamo Serdar del Prato, Dalinga, carta Plus, Bulaie di A, la Energy di Holm, Ravaia per il Bologna, sotto questa forse c'era qualcun'altra, no, mi sa, ho trovato una carta in meno, non lo so, non lo so. Altro pack, abbiamo Poglian Palo, Valenti, Brescianini all'Atalanta, Nico Gonzales, poi la Energy di Fructal, e a terminare Mitrovic per il Verona. Inizia a diventare più consistente il nostro numero di class. Allora, speriamo di trovare qualcosa interessante in questo box. Plus di Alexis Sanchez, Eusebio di Francesco, lo stemma del Toro, la Superstella Plus di Ndoie, quindi portate a casa anche la Superstella, non mi ricordo se ne è una o due, andiamo a vedere. No, ragazzi, ne sono tre, quattro, cinque, sei, sette Superstelle, e poi il top player che cerchiamo è Romelu Lukaku. Allora, abbiamo un codice, De Winter, Diallo, Calulu per la Juve, Mark Winski, poi Ciauna per la Lazio, e girata c'è De Ketelar. Continuiamo a spacchettare, altra carta checklist, abbiamo Samarcic, Belaian, Fofana, carta plus, il mister Fabregas, la diamante di Dacugna, la millesima, e Di Marco, Di Marco in versione carta base. Altro pacchettino, abbiamo Samuele Ricci, Serghi Roberto, la carta plus di David Neres, di spalle, lo stemma del Milan, Terracciano Influencer, e Federico Chiesa. Andiamo avanti. Abbiamo sotto il codice la carta di Mancini, McKennie, Simone Inzaghi, mister per l'Inter, Cabasele, Udinese, Superstella plus di Malinoski, e poi, poi, Pedro. Due Superstelle le abbiamo portate a casa. Abbiamo portato a casa anche una carta di Abolici, per adesso, Oberth, Vanoli, Koulibaly, poi abbiamo la carta fortezza base del Napoli, però questa mi manca, e poi, di spalle, Krestovic e Vigorito per il Como. Continuiamo a spacchettare, abbiamo una carta codice, poi, dichiara, Duncan, bella nuova carta plus, una diamante normale, una energy normale, e Pulisic, in questo pacchetto soltanto una carta plus. Codice, poi abbiamo Caio De, Migna, Gasperini, Sale Makers, lo Stemma del Genoa, e Mann e Mihaela. Carta diabolici per il Parma, carta doppia. Stemma, Ciucquese, abbiamo Baroni, Valuchievicz. La fortezza plus sono Sousa, Pedersen, Coco e Massina. Poi abbiamo Orsolini e Rachmani. Non mancano molti pacchetti, e per adesso, niente... Ah, ragazzi, ragazzi, ho trovato qualcosa, ho trovato qualcosa, spero che sia della nuova raccolta, diciamo, delle carte. Mister Antonio Conte, Pinamonti, Mutanda, Mutanda, ragazzi, questo si chiama Mutanda. Allora, Oh, sì, abbiamo trovato Romelu Lukaku, plus top player, eccolo qui. Abbiamo trovato il top player del box, ce l'abbiamo fatta. Ah, più o meno vedo che tutti quelli che hanno trovato i box plus hanno portato a casa una carta rara, quindi, evidentemente, in questi box, dai, qualcosa di meglio si trova. Rispetto ai primi box che ho visto gente lamentarsi tantissimo per la quantità di... la non quantità di carte trovata, noi abbiamo trovato il top player plus, Romelu Lukaku, sono contento, grande, ragazzi. Poi c'è anche il super top player da trovare, il top player, diciamo, con la firma, e quella di Di Marco. Allora, Gabrielloni, Selic, Karstrom plus, Runeich, del Prato Influencer, e poi Odental per il Como. Abbiamo ancora 7-8 pacchetti, se li andiamo ad aprire tutti, così scopriamo tutte le carte della collezione. Plus di Tenged, Bravo, lo stemma del Lecce, e Kinn, Moise Kenna per la Fiorentina. Continuiamo con Gallo, Piccoli, Mazzitelli, Carta plus, Influencer, D'Immobile, ragazzi, una volta, Biraghi e Svilar. Ci mancano 4 e 1, 5 pacchetti, 5 pacchetti, abbiamo Simeone, Sottil, Carta plus di Turam, Pavlovich, Fabian, Carta talento, e Raul Bellanova. Andiamo avanti, tutto potrebbe, speriamo che non è finita qui, Cristante, Mister Nicola, Moreno, logo plus dell'Inter, Super Stella di Quara Schelia, non mi ricordo se ce l'ho o meno, mi sembra di sì, Alessandro Sorrentino, il portiere del Monza. Ultimi 3 pacchetti, dai, dai, portiamo a casa un'altra, un'altra sorpresa, su, Bondo, Pezzella, Buongiorno, Carta plus, Colpani, la Energy plus di Velasquez, ragazzi, il portiere dell'Empoli, non male questo portiere, non male, ma visto che, è tra i migliori in serie A, per media parate, codice, Musa, Gendrè, che ha, c'è Adams, Carta plus, Sortea, Stemma del Cagliari, e Benediczez. Ultimo pack, dai, ragazzi, forse, vorrei portare a casa qualcos'altro, Ortea, il top player plus, ma la vedo complicata, Zarraga, Pierre Re plus, Haps plus, Urbanski, Influencer di Scamacca, e Pellegrini, per la Roma. E allora, eccoci qua con la fine del video, abbiamo portato a casa 54 carte plus, su 102, un super top player tra queste, e due di 6 o 7, non mi ricordo, l'avevo detto all'inizio, super stelle plus, quindi siamo a metà dell'opera, e non so se a questo punto potrà convenire mai prendere un altro box, perché sicuramente la parte delle carte base le avremo quasi tutte, insomma, per andare a recuperare altre 4 o 5 carte plus speciali, non lo so se ne vale la pena. Eccola qui, la carta più interessante del box, e quindi, può terminare questo video, ragazzi, vi ho spiegato come fare a trovare il box plus in edicola, abbiamo visto un po' queste carte, abbiamo visto la checklist, fatemi sapere nei commenti, se anche voi siete riusciti a trovare questi box, e a questo punto il video può terminare qua, ma prima vi ricordo ancora una volta, l'iscrizione al canale, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella, e soprattutto schiacciare un bel like a questo video. E quindi, con il box plus delle carte Adrenalin 2024-2025, è lui, Romaino Lukaku, Top Player Plus, da lancire è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!